Domanda a fratello Giuseppe, c'è questo gruppo in Israele che sono cristiani ebrei e hanno una organizzazione, una tv? Sì, è gente simpatica. Sì, sono dolci. Sì, sì. Sono fratelli in Cristo loro. Sono fratelli in Cristo, però loro enfatizzano, diciamo, più o meno, più Israele del cristianesimo. Quello voglio chiedere. Ciò nonostante sono cristiani. Quello voglio chiedere, perché sì, sono attivi nel propagare il Vangelo. Sono molto bravi a predicare, a convertire al cristianesimo ebraico. E quello che loro dicono, una cosa che non so, mi chiedevo, dicono che Dio, è come se Dio avesse due figli. Uno, Israele, che sappiamo che da due mila anni sta rigettando Cristo, e l'altro figlio, i cristiani, che camminano, hanno accettato Cristo. Quindi abbiamo Mosè e Cristo, due entità. Fammi mettere il loro video, è solo un minuto, è molto interessante. A volte la visione della teologia della repressione riguarda, beh, chi Dio ama di più. Sai che Dio ama di più gli ebrei, o ama di più la Chiesa? E penso che vediamo che il carattere di Dio nella Bibbia è come un padre. Preferisci un figlio all'altro? Certamente no. E penso che Paolo ne parli in Romani 11, quando dice, Una benedizione è venuta alle nazioni quando Israele ha rifiutato il Messia. Ancora uno, eh? Esattamente. Quanto saranno più le benedizioni? C'è abbastanza benedizione per tutti, non è una competizione. Se dopo le promesse incondizionate di Dio, e la sua pazienza con il suo popolo, se diventa impaziente, se cambia idea, sai, allora non è il Dio della Bibbia. E se questo è il caso, allora che ne sarà di te e di me? Voglio dire, può stancarsi di noi e dire, beh, errori, mi dispiace tanto, ma mi hai scoraggiato troppe volte. Sto solo ottenendo... Dio non rimpiange i suoi doni e la sua chiamata alla sua elezione. Allora, sentendo quello che dicono nel video, voglio chiederti, fratello Giuseppe, se ci puoi dare alcune risposte scritturali. È vero che gli ebrei che non sono in Cristo, sono amati da Dio allo stesso livello come i cristiani. È vero questo? No, non è così la storia. Cioè, se questi qua hanno rispinto Gesù da un croce fisso e adesso è uscito dalla porta, vogliono entrare per la finestra, non è così. Perché Gesù ha detto in Matteo 21, che adesso studieremo anche quello, il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un altro popolo che porti i frutti. E quindi, no, quando si pentiranno, quando torneranno a Cristo, quando si convertiranno a Cristo, e allora saranno amati come tutti. Ma attualmente questi qua continuano a respingere Gesù, va bene, però vogliono essere amati come i cristiani che Gesù non ha ricevuto. Ma questo è pazzesco. E come si fa a ragionare così? È come due figli, sempre Matteo 21. Uno dice, padre, io vado a lavorare nella vigna, ma non va. Quell'altro ha detto, non vado, però poi è andato. È logico che Dio ama tutti, ama anche i nemici, ama anche i criminali, ama tutti, tutti. Ma calma, non è lo stesso tipo di amore. L'amore che Dio ha per la Vergine e le Vergini con olio, sposa, non è lo stesso di quelli che invece l'olio non l'hanno voluto, non l'hanno preparato, non si sono preparati. E sì, Dio ama tutti, però calma, c'è una differenza. Guarda, leggiamo Filippesi 3.3. Filippesi 3.3? Sì. Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Cioè, noi vediamo che... Filippesi 3.3. Puoi andare anche, guarda, Apocalisse 3.9, messaggio alla Chiesa di Filadelfia, che gli ebrei davano un sacco di problemi ai cristiani. E ancora adesso, se potrebbero, lo farebbero, ma non possono perché sono sotto pressione dagli islamici. Ebrei, sorry, Apocalisse 3.9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Apocalisse 3.9. Ecco, diciamo, l'imbroglio sta qui. Qual è la vera Israele? Questi dicono che sono giudei, ma non lo sono. Capito? Come Gesù ha detto in Giovanni 8.44, voi siete figli del diavolo, eccetera. Sta parlando ai leader ebrei che perseguitavano Gesù. E le masse ebraiche che gerarchia non sono, seguono come ciechi, diciamo. Il Signore li ama, noi li amiamo, non è questione di amore. Il perdono di Gesù è davanti a loro, ma lo respingono. Ha respinto la croce, il sangue di Cristo. Hanno respinto il Messia, ancora lo respingono. E hanno impressione ingannato la maggioranza delle chiese evangeliche, che li finanziano, li sostengono, li invitano nelle loro chiese, cioè i Pentecostali, i Battisti, la maggior parte, li invitano lì, tolgono le croci, attaccano le bandiere israeliane. E questi ebrei hanno convinto questi protestanti che i protestanti sono gentili, cosa vuol dire pagani? Cioè cristiani pagani o pagani cristiani, e loro invece sono il popolo di Dio. Ma non sono neanche cristiani, non sono neanche il popolo di Dio. Filippesi 3.3, i veri circoncisi siamo noi. Ma un cristiano di discendenza ebraica è superiore davanti a Dio da un cristiano di discendenza gentile? No, assolutamente inferiore. Come inferiore? E perché hanno crocifisso Gesù. Ma se è cristiano? Un cristiano ebreo è superiore a un cristiano pagano, cioè che era pagano? Bisogna cancellare la parola ebreo, se non in Cristo. E in Cristo gli ebrei siamo noi. L'ebraismo crocifisso Gesù non si è pentito e quindi è molto inferiore al cristiano. Anzi, non sono neanche più il popolo di Dio. Come dice in Osea capitolo 1, Dio ha detto a Israele, tu non sei più il mio popolo, io non sono più il tuo Dio. Capito? E anche in Matteo, vai Matteo 21, va, 43. 43 e... Matteo 21, 43. Sì, e 45, vai. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. A chi sta parlando? Agli ebrei. Agli ebrei, adesso lo dice anche chi parla, 45. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro. Matteo 21, 43 a 45. Quindi, diciamo, queste chiese evangeliche ci hanno, diciamo, per loro è una bestemmia parlare di sostituzione che i cristiani hanno preso il posto degli ebrei. Bestemmia per questi protestanti per non parlare degli ebrei. Ma, insomma, a me non mi piace questa parola sostituzione, però è una parola corretta, se vuoi. Cioè, io più che sostituzione parlo del corpo di Cristo. C'è un corpo di Cristo che è nato di nuovo, una nuova creatura che è la nuova Gerusalemme che è qui, adesso, sulla Terra. Sì, è la nuova Gerusalemme che dovrà scendere in Apocalisse 21? Sì. Ecco, è già qui. È già qui, sei tu, sono io, siamo noi. Tutti quelli che credono in Cristo. La nuova Gerusalemme è una città viva, fatta di anima, di persone che Gesù salva uno alla volta. Ma è già qui la nuova Gerusalemme. Non c'è da aspettare che scenda dopo il millennio, perché noi siamo la nuova Gerusalemme spirituale che scenderà in modo tangibile in Apocalisse 21. Allora, questi ebrei, per esempio, questi messianici, che, come tu hai detto, sono molto bravi nell'evangelizzare in Israele, i credenti di discendenza ebraica, i cristiani già convertiti, sono superiori ai credenti come noi di discendenza gentile? In nessun modo. Guarda, vai da Galati 3 e lo vedi. Galati 3? Sì, Galati 3, 28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Galati 3, 28. Ecco, allora, come vedi, sono tutte religiosate. Cioè, i testi di Geova sono meglio dei mormoni, i mormoni sono meglio dei protestanti, i quali sono meglio dei cattolici, i quali sono meglio degli ottodossi, cioè, in qualunque manicomio vai, qualunque pazzo si crede meglio degli altri. E questo è un cancro che pervade da tutte le parti e nasce dall'egoismo, dalla superbia, dall'orgoglio. Non è vero. Guarda, vai da, leggiamo, Romani 2 e 11, perché tu chiedi, sono migliori dei cristiani, no? Sì, perché loro dicono, ma Dio non si riprende i doni, ma noi siamo convertiti grazie a loro perché loro hanno rigestato Cristo e questo ha portato alla nostra conversione, come dice i romani. Quindi, in un certo senso, tutti dicono che grazie a loro noi siamo in Cristo, anche se loro non sono in Cristo. In Romani 11 dice che Dio non si riprende i doni. E chi sta dicendo che se li riprende? Ma il dono per gli ebrei adesso non è di essere... Parlando di ebrei cristiani, ebrei carnali, chiedo scusa. Ma loro in generale parlano di tutti. No, no, di chi parli tu adesso. A chi devo rispondere? I cristiani in relazione agli ebrei ebrei o cristiani in relazione agli ebrei convertiti al cristianesimo? Ebrei, perché con quelli convertiti hai già detto che siamo uno con loro. Sono uguali. Allora chiedi di nuovo in modo chiaro. No, dicevo che quando le chiese e anche questa organizzazione in Israele, quando predicano sulla posizione, la relazione di Israele con Dio, dicono che Dio non si riprende i doni, quindi Israele ancora è il popolo di Dio. Dicono che noi, gentili, siamo arrivati alla fede in Cristo grazie al fatto che Israele ha respinto Cristo. Ma allora sono ancora il popolo di Dio. In virtù di cosa? Non lo so. Ma allora anche il diavolo è ancora un angelo di Dio. Scusi, i doni di Dio sono senza pentimento. Perché dobbiamo riprendersi il dono dal diavolo? I satanisti perché non sono più il popolo di Dio? Ma è ridicola questa dottrina. Cioè Dio ha detto chiaramente in tanti passaggi, citato uno, Osea capitolo uno, voi non siete più il mio popolo. In Isaia 50, cos'è, verso uno, dice io vi ho divorziato, io mi sono divorziato da Israele. Ma insomma, Gesù è arrivato e lo ha scandito ancora più chiaro. Matteo 23 ha detto tombe imbiancate, piene di ossa di morti, come scampierete all'inferno. E questi vengono ancora a dire a me è quello che mi scoccia un pochino, è noioso, più che scocciarmi è una noia, che questi fratelli amati, fratelli evangelici, sono lì a baciare i piedi agli ebrei che respingono Gesù. Ma non vi vergognate? Ma non vi vergognate? Questi qui non vogliono Gesù, vogliono baciare i piedi? Gli date i soldi? Gli date il pulpito? Cioè, fratelli evangelici, siete peggio dei madonnari cattolici? Peggio! Va bene? Perché almeno quelli là adorano, venerano una santa che perlomeno non ha fatto nessun sbaglio. Ma gli ebrei che crucifisso Gesù non vi vergognate, protestanti? Ma insomma, guarda, è una noia, è una noia. Sono sempre lì alle cari piedi agli ebrei. Sono ancora il popolo di Dio. Ma quale popolo di Dio? Abbiamo letto Matteo 21, 43, 45, dice i capi, i sacerdoti, i farisei hanno capito che parlavano di loro. Gli evangelici non l'hanno capito però, ma vogliamo spiegarglielo per cortesia. Leggiamo Romani 2, 11. Romani 2, 11. Perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Perfetto. Romani 2, 11. Capisci? Quindi non c'è ebrei circoncisi nella carne che si convertono a Cristo. Pagani non circoncisi che si convertono a Cristo. Davanti a Dio non c'è favoritismo. Ecco, Filippesi 3, 3, i veri circoncisi siamo noi. Cioè i pagani, ex pagani, filippesi, colossesi, corinti, greci, italiani, africani, mongoli, esquimesi, quelli che abitano vicino ai pinguini, sono tutti uguali. Quello che dà differenza, la superiorità davanti a Dio, le corone più grandi, la sposa di Cristo, non è perché sono ebrei carnali o no, ma dipende dalla fedeltà, da chi dà tutto il cuore a Gesù e poi ci sono quelli che lo danno e poi se lo riprendono. I doni di Dio sono senza pentimento, ma molti di noi, speriamo di non essere di questi, i nostri doni a Dio sono con pentimento. Oh, io ho promesso a Dio di dare questo e questo. Il mio egoismo dice no. Ah, io ho promesso a Dio di fare questo, evangelizzare. Oh, aspetta, perché non posso sacrificare la mia televisione, il mio tempo libero, i miei hobby. Quindi noi, i nostri doni che diamo a Dio sono con pentimento e ce li riprendiamo. Ma a Dio no. Va bene. Certo che, però riguardo sia agli ebrei, riguardo ai pagani, ai gentili, tutti siamo uguali davanti a Dio. Romani 2,11, non c'è favoritismo né nepotismo. Sai cos'è del nepotismo? Sì. Quando i papi favorivano i nipoti. Quindi non c'è nepotismo davanti a Dio, non c'è cuginismo, non c'è parentiismo, non c'è lecapiediismo. Davanti a Dio siamo tutti uguali in Cristo. Poi chi vuole crescere al di sopra degli altri dovrà crescere in umiltà, in amore, in evangelizzazione, in sacrificio per Cristo. Va bene? Amen. A posto? Grazie. Grazie. Grazie.